Sono morte mentre andavano a scuola, percorrendo la strada che erano solite fare tutte le mattine per raggiungere il liceo scientifico di Paola. Una strada che questa mattina ha inghiottito le loro vite in uno scontro tra l'utilitaria a bordo di cui le due adolescenti viaggiavano e un SUV. L'incidente si è verificato sulla statale 18 nei pressi di San Lucido in contrada deuda. Per cause ancora in corso d'accertamento, un SUV e un'utilitaria si sono scontrate. Altre quattro persone sono rimaste ferite, le due ragazze al momento dell'impatto non avevano addosso documenti e si è impiegato diverso tempo per ricostruirne l'identità. Entrambe frequentavano l'ultimo anno del liceo scientifico di Paola, in cui presto avrebbero avuto a che fare con gli esami di maturità. I feriti sono stati soccorsi e portati negli ospedali di Cosenza e Cetraro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paola, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, ma anche tre ambulanze, l'elisoccorso e i vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre i corpi delle giovani inchestrati tra le lamiere. Il tratto della statale 18 tirreno inferiore è provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni. Tiziana Bagnato per la CNews24